Nei campi più cinghiali che lavoratori, questo il grido d'allarme lanciato dalla Col di Retti. Nelle campagne mancano infatti lavoratori stagionali per i raccolti, che sono così facile preda di migliaia di cinghiali, oltre agli altri animali selvatici, che si moltiplicano senza freni, scorrazzando liberamente nei terreni coltivati, con gravi danni a semine, foraggi, frutta, ortaggi e vigneti, minacciando inoltre gli animali della fattoria, ha commentato la presidente Lidia Castellucci. Oltre ai danni ingenti sui raccolti, con effetti anche sulla stabilità dei prezzi, a preoccupare sono anche rischi per la salute provocati dalla diffusione di malattie come la peste suina. L'assalto degli animali selvatici, prosegue Lidia Castellucci, aggrava la situazione di difficoltà. Nelle nostre campagne, dove mancano almeno 23.000 stagionali, di questi il 60% sono non italiani, quindi almeno 13.000 unità. La carenza di mano d'opera si farà sentire, se non verrà ripristinata in tempi rapidi, la mobilità alle frontiere e per questo sul piano nazionale è necessaria subito una radicale semplificazione del voucher agricolo, che possa consentire da parte di Cassi Integrati, studenti e pensionati, lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui scuole, università, attività economiche ed aziende sono chiuse e molti lavoratori in Cassi Integrazione potrebbero trovare un'occasione di integrazione del reddito proprio nelle attività di raccolta nelle campagne. E per questo, conclude, che servono voucher limitatamente a certe categorie e solo strettamente per il periodo di emergenza del coronavirus, al termine del quale è auspicabile la ripresa del mercato del lavoro. Grazie a tutti.